E' tutto sotto controllo Così dicono Che falsa che è Madonna pure il bacio Falsa fino al mitollo Maledetta Ma noi andiamo Avanti verso il nest Salve Andiamo a perlustrare il laboratorio Vabbè sta parte E' ancora facile L'ho detto Guarda per sbrigarmi Ok A posto Un attimo c'ho avuto paura Un attimo c'ho avuto veramente paura Perché non mi aspettavo Che quella si alzasse Effettivamente non si è mai alzata Io ho sempre sparato prima C'è un coltello? Si Volvere mi serve Coltello che sta qua no Occhio qua Mi hai fregato una volta Due è difficile caro Ok Questo io lo voglio Serve per accedere ai livelli superiori dell'ambrella Belle ste munizioni Non me le ricordavo Questo è per lancia fiamme E qua non c'è niente Vai Veloci come la polvere Non apriamo questa Per carità che escono tutti Ok Nice 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 Poi ci facciamo un giro qua Dr. Lee Se aspetti Adesso lo scopriamo Lì Ecco la mappetta Tutto preso Lasciamo il salvataggio lì Tanto non ci serve Macchinetta Non c'è niente Raccoglie qua dentro Ah si Raccoglie questo Allora 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 Deposito 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 Lancia fiamme Facciamo la piccola modifica Subito Vale Il coltello mi serve Il coltello mi serve E mi serve pure il lancia fiamme Dove vado senza lancia fiamme È arrivato il momento Del lancia fiamme Il G virus è nell'area ovest Quella là Ma noi non abbiamo Un braccialetto di livello 3 Purtroppo Abbiamo solo un braccialetto Di livello 2 E quindi andremo nell'area Est Perché è lì che dobbiamo fare Le zozzerie Tempo 2.19 Veloci Sono stato veloce Starun Considerando l'estremo Not bad Not bad Un salvaggio inutile Polvere Ok Depositiamo la polvere No in realtà Me la faccio Adesso si può Non usare Se non le usi adesso Non le usiamo in più Guarda quante ce n'ho Ma vabbè Ma a me poi da 8 munizioni Vabbè Allora Spazio a sufficienza Non ce l'ho Effettivamente Il coltello Non me serve Non me serve Questo me serve? Sì Mi potrebbe servir Aprire le porte Non mi ricordo Se ci stanno Questo mi serve sicuro Andiamo così Andiamo così E qui ci stanno I ivy Che sono sti nemici brutti E sti due Che stanno qua dentro Vanno uccisi subito Poi dopo vi ricorderete Perché l'ho ucciso Cioè Capirete perché Io li uccido adesso Dai sta fermo Sta fermo Non mi vede il braccio Adesso aspettiamo Che si carbonizzi Un po' Spazientate Prima o poi muore A posto 50 colpi di Di coso qui Di lancia fiamme Niente Non ce la passa A fermo Eh Veramente Gattime Veramente E questi saranno Gli unici Uni che uccideranno No Forse no Forse no Forse tre Ma pensa un attimo Per la sala Possibile Non posso Poi Madonna la roba Che mi stanno andando Però Eh ma si è riempito L'inventario Scusate Lo salto Ma vabbè Dispensing solution Faceva Vede che comunque Non funziona Perché è a vuoto Il contenitore E qui abbiamo La mappa Dell'aria E mi servono i codici Che non mi ricordo Io Quindi la faremo Alla vecchia maniera Con Cum Sum Dispiacere Perché Avevo Tutto altro piano Ma È andata così Quanti colpi 14 A bomba a mano Qua mi serve Però Cazzo Praticamente Dobbiamo mettere i codici Per sbloccare Questa Che serve per Raffreddare No scusa Per mettere il liquido Che uccide la pianta Nella boccetta Ah c'è il codice Ok ok Aspetta Aspetta Perché io di solito Ce le ho puntate Da qualche parte I codici E non devo far Tutta sta malfrina Ma se no Sti cazzi No regà Mi sono cagato sotto Voi non ci avete idea Mi sono scordato Di avere Se loro ti prendono E non c'è niente Mori È un one shot Mi si è fermato il cuore Mi si è fermato il cuore Sono bloccati Sono bloccati Allora Allora F W S F Me lo ricordo F W S S Ok Fusili a pompa Qua se li posso attirare tutti qua Vai, grande Madonna che colpo prima Eh, ma c'è sta pezzo rognosa Sta polvere a sparo la posso neapprendere dopo, sì Posso neapprendere dopo, non mi serve adesso Mi serve spazio nell'inventario A parte mese libera Perché c'ho una bomba mese libera, ok Adesso devo... Eh, sta parte è tosta Non c'ho cure poi Porca troia, non c'ho cure No, no, regà Sono morto Sono automaticamente morto Come cazzo faccio adesso? Come cazzo faccio adesso? Poi qualcuno mi spiegherà Perché questo qua si deve alzare dopo Il codice Ma io questo non ce l'ho Io mi cago sotto adesso, regà Io mi cago sotto adesso Io mi sa che me la rascio questo Me la rascio? Me la rascio? Me la sto rascià Me la sto rascià Me la sto rascià Porco due se me la rascio Io senza cure Due leaker non li ho combatto Tu muori Era troppo rischioso senza cure, regà Due leaker nei reggi Faccio una battaglia Ciao vai Buonanotte Ok Questa è la parte difficile del gioco Un'altra delle parti difficili Questo mi serve da portare Mala presto Perché non mi ricorderò mai il codice Questo per momento Non mi serve Più Devo pia la cura Quasi quasi me ne pia pure due Polvere gialla Buona come il pane Proiettivi non fanno mai male Qui ti dice che devi bruciare Gli ivy E questo è buono perché serve Serve per riattivare la corrente dove manca Torniamo dai leaker Torniamo dai leaker Agura c'è la ai Agura c'è la ai Agura c'è la ai Eh ce ne dovrebbe essere un altro Che proprio il momento Non si sta a far vedere Quindi sti cazzi Comunque è stato No veloce di più Non c'è Ammazza Oh perché so così È difficilissimo sto cosa Ok Ma il leaker dove sta Mi devo riguardare andare a prendere quella polvere Ma mi servirà effettivamente quella polvere Fammi pensare un attimo Perché probabilmente non mi serve Comunque si può correre No c'è la pianta Io c'ho paura Che sti cosi One shot Ma A teterno Io da sta scala non ci devo passare più Per memoria o per me Da sta scala non ci si passa più Eppiamo subito Una granata E un ben qualsiasi cosa Basta qualsiasi cosa Adesso bisogna mettere il codice che c'ho sulla statuina Nella stanza Tanto qua il passaggio è strasicuro Che ho pulito Da saggio Poi bisogna Andare a fare Il liquido Raffreddarlo E riportarlo in questa stanza Allora il codice era Sta cosa strana Piccolo P Grosso Sta cosa strana Piccolo P Grosso Nice Ok Vattene Via Allora Adesso Tutti quelli che io aggrado prima Merda Vai 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 Bello Perfetto Allora Mettiamo Contenitore Manual mode Engaged Adjust amount of solution To match card Vai Non si scrive Allora Così 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 Yes 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 Adesso Mi conviene Mi conviene Fanculo la polvere grande Mi conviene tornare Là Guardate Tutti qua Come si mettono Come passo io mo Che ho pure spiegato colpi Ma perché mi fiutano sti cosi Ma perché mi fiutano sti cosi Ok Sì sì passiamo da dietro Passiamo da dietro tutta la vita Mi metto a ammazzare 10.000 le uomini erba qui Stress mentale al momento lo stress mentale è altissimo C'è uno stress mentale altissimo Madonna non c'ho più munizioni Madonna non c'ho più munizioni Dovato A casa Eh no 2.37 Quanto tempo sto a perdere Speriamo quella pianta è ancora morta No Perché la musica mi dice che non è morta E infatti sei alzata Dai La zona dell'affreddamento è qua Porco due leakers Si è messo al posto di quell'altro Mi sono cagato sotto Questa si alza Non più 5 new messages Si battutona Si vi risparmio il video di mezz'ora Ok Questa avrei anche potuto Lasciarla lì ma Perché no Adesso Non mi rompere il cazzo Ok Adesso C'ho solo un problema Io Che mi posso risolvere Con una granata Che ho Allora Fammi se Di colpire pistola Tanto per Un coltello Ma la piga Ma c'ho paura Che ansia però così Che ansia Senza salvataggio Brutta 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 Non la farò mai più sta cosa Non la farò mai più senza salvataggi Ma è estremo A standard ce lo sta Ma è estremo la farò mai più Mai più Dispensare la soluzione Ora Eccolo la Diamo sappia Lo so Lo so Stai calmo Me ne vado subito Fammi via sto coso E me ne vado subito Anche perché Eccolo Arriva zio Arriva 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 Lo sento Lo sento che ce l'ho dietro Corri 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 Voi pensate se non avessi ucciso Quei due Qua dentro Che cazzo succedeva adesso Con quello che mi rincorriva Questi che mi bloccavano E io ero morto Invece zio suga Oddio sta arrivando Oddio sta arrivando Oddio sta arrivando Quanto cazzo corri Vai 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 Ok salve Che poi c'è Allora io faccio Un miliardo e mezzo Di cose Passo attraverso le fogne Attraverso cose Che Distruggo il mio passaggio Lui mi arriva sempre Lui arriva sempre E poi vai passare le porte Senza averci Il braccioletto Di sicurezza Comunque ci siamo Regà Due ore e quarantuno Ci siamo Manca veramente Poco Certo C'ho poche munizie Questa La volemo vedere Due granate ottime Per il boss Da adesso Questo è Os Pi di pi Qui dobbiamo raccogliere Tutto Tutto te raccoglio Merda Ragazzi Merda Mi sono scordato Una cosa importantissima Mi può fare C'è Mi può tracasare Tutto due Due C'è Buon Questa Faccio C'è Questa P grease Ci Un Let' Visit C'è To To io per questo allora pianta se butta niente a sto giro mi spiace mi spiace mi spiace se butta niente stira l'avasciuga andiamo a prendere sto virus e te li amo pianta pulvere gialla salvataggio pulvere grande quindi noi approfittiamo subito allora cosa mi serve questa sì mi serve lancia fiamme e con un po decombustibile poi mi serve la light ringo questa ecco ecco c'era qualcosa che non me la cura e le munizioni per la latina e ci abbiamo il piano tutto accugato c'è ancora una polvere grande ci dovremmo s ci dovremmo s prendiamoci questi al volo scalamanzia si si fa virus si facile si andiamo esatto mi cago un pochetto adesso mi cago un pochetto lì ti esatto No, 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 no. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. Good God, William. What have you done? So you made this monster? We made the G-Virus, but we never intended this to happen. You spin it any way you want. You're still responsible. What the hell? Oh, shit. What are you doing? We can't let him get away. Ben certo, intanto un pezzo da merda ce sto io. But it's just. Vai, 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 vai. Let's go. Let's go. Let's go. Ok. 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 No, 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 no. Ok. No, sto a guardare perché non vorrei che la registrazione sia stoppata. Tempo? 249. Ok. Raccogliamo tutto quello che si può raccogliere qua sotto Stordente, ottimo E adesso già cominciamo a metabolizzare per il prossimo boss Che sarà l'ultimo Io mi cago un po' sotto Dai, siamo arrivati fino a qui Ce la faremo, dai cazzo, ce la faremo Buono Non me lo aspettavo Proiettili Per la Magnum Pure un medikit, cioè Vabbè, sti cazzi sono pieni A posto Abbiamo preso il possibile Grazie a tutti No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah Oh Ah 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 Hold on I think I can Take me to the chance No Forget it Shut up I've got you It's not worth it Don't do this no take care of yourself leon no e colpo di scena su colpo di scena gente che si rianima gente che spara in cose incredibili che succedono ma la cosa importante è fuggire dal laboratorio e non morire all'ultimo post perché a questo punto bestemerei veramente forte sveglierei tutti qua dentro tempo 2.52 potrei finire sotto le 3 ore sarebbe un sogno calma concentrazione concentrazione dai che cosa c'è qua un medico lo prendiamo guarda un po' chi c'era la nostra amica Claire Claire leon 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 tu stai anche qui sì ma il tutto il paese è venuto ascolti mi devi andare fuori velo velo sì c'è un modo fuori e la musica che comincia a pompare e allora cazzo adesso sì che siamo nei fottuti guai dai 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 let's go let's fucking go accuccia accuccia ma sì perché no me la prendo prima del boss vabbè venga venga faccia il giro sì è una barzelletta oh 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 devi far giro gli dar tempo di scappare stronzo sì sì tu rimani pure comodo ma io dico se ci deve essere un zombie qua perché l'inutile zombie esplosione su esplosioni boom presa in faccia maledetto pelato l'erch sembra guardalo guardalo l'erch boom me lasci sta me lasci salvi ancora salvi eh certo e' un amoleon dai e dai oh bello su let's go allora allora ci siamo raga ci siamo tutto sta funzionando e' un po' e' un po' Sì. non ho preso di subito Grazie a tutti. 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 I can't believe I actually miss her. Campioni del mondo ragazzi. Saltiamo i ditoni di coda. E voglio sapere la valutazione adesso. E soprattutto voglio leggere quello zero salvatacci. Mi hai dato una A. Mi hai dato una A. Zero salvatacci. Mi hai dato una A. Va bene ragazzi. Non so cosa dire. Sono strafelice di esserci riuscito. È stato al primo tentativo. Quindi not bad. Se vi è piaciuto spolliciate per bene. Alla prossima.